Siamo qui con la Presidente dell'Associazione Aido e ci spiegherà adesso gli obiettivi di questa mostra, che cosa si è prepista, qual è lo scopo principale con cui avete deciso appunto di organizzarla. Ecco, quel sono anche alcuni eventi che noi facciamo, per cui abbiamo deciso di non fare solitamente la solita con carenza, le solite giornate di comunicazione, perché credo che facciamo già una relazione. Abbiamo cercato di fare una mostra fotografica intitolando l'unico giusto di una realtà, nel punto che, come l'anno, è come la grande domanda, che grazie all'innovazione degli ordini, e quindi grazie alle campagne che riesce a fare l'informazione, riesce appunto a un sito e a un individuo, le postano benedici a loro, e quindi a sua volta diventa mamma per una volta. Quindi, devo dire, c'è un servizio per la vita, perché proprio durante gli ordini l'idea necessitava la vita di una persona, che in questo ritengo l'avranno molto da avere un'innovazione di costituzione di tanti, che quando l'arri si stanno a mezzo. Grazie.